Il fenomeno interesserà prioritariamente Calabria e Sicilia già a partire dalla serata di domani e fino a venerdì 4 maggio martedì un grado maggio, nell'attesissima giornata della festa dei lavoratori che quest'anno concede un lungo ponte apprezzatissimo dai vacanzieri. Inizierà un brusco peggioramento che porterà le prime forti piogge in Sardegna e, nel pomeriggio barra sera, anche in Toscana e nel resto del centro barra nord. Sarà comunque un primo maggio di bel tempo su gran parte della Alla 500 Italia e in modo particolare al centro barra sud. Il forte maltempo arriverà nei giorni immediatamente successivi, tra mercoledì 2, giovedì 3 e venerdì 4 maggio. Il forte maltempo sarà provocato da una brusca tempesta mediterranea, un fenomeno tipicamente primaverile che quest'anno arriva in grande ritardo rispetto alla norma, soltanto a inizio maggio solitamente questi eventi caratterizzano in modo costante il bimestre marzo-aprile. Il violento ciclone arriverà sull'Italia da sud barra ovest, irrompendo nel mar Tirreno proprio mercoledì 2 maggio, punto le regioni più colpite dal maltempo. Quindi, saranno quelle occidentali, quindi la Sardegna in assoluto la regione che verrà funestata da piogge alluvionali per tre giorni consecutivi, le regioni tirreniche, la Sicilia, la Calabria e tutto il nord. Sardegna in assoluto la regione che verrà fune.